Preciso! Vabbè! Brava! Senti, come lo mangiamo questo? Così! Lo mangiamo così! Noi e voi ricapitolate, noi ce lo mangiamo! Ho fatto delle palle di gelato e le ho messe a indurirsi nel freezer. Intanto ho steso il pane, ci ho avvolto le palle di gelato ghiacciate, ho avvolto il tutto nella pellicola e ho rimesso ancora nel freezer. Per la pastella ho mescolato acqua e farina e vanillina, ho passato le palle di gelato ben ben ghiacciato nella pastella e le ho fritte.